Due donne abruzzesi di successo, due storie che raccontano, declinandoli in rosa, impegno, dedizione e forza di volontà. La chef Angela Di Crescenzo, contitolare del ristorante stellato Villa Maiella di Guardia Grele, e la manager Barbara Morgante, amministratore delegato di Trenitalia, sono le vincitrici della prima edizione del premio Maya Donna d'Abruzzo, il riconoscimento istituito dalle ACLI provinciali di Chieti. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche i premi speciali Coltiva il talento, assegnati a Maria Lapenna, autrice del bozzetto del premio e studentessa della 4A del liceo artistico Nicola Da Guardia Grele di Chieti, e all'istituto superiore Umberto Pomiglio di Chieti, guidato dalla dirigente Anna Maria Giusti, i cui allievi hanno disegnato e realizzato gli abiti indossati da alcune studentesse. Per Barbara Morgante è stato un ritorno nella sua Chieti. L'AD di Trenitalia ha colto anche l'occasione per fare il punto su quanto si sta facendo in Abruzzo, nel settore dei trasporti ferroviari. Io sono legatissima a questa città, è la città in cui ho vissuto nell'adolescenza, dove ho fatto un percorso formativo, chiamiamolo di base, che è stato molto solido. L'Abruzzo ha due criticità, anche due linee di sviluppo, quella verso Roma e la linea adriatica. Quali le novità su questi due versanti? Sulla linea verso Roma, come sapete, abbiamo già accorciato i tempi di percorrenza. RFI sta intervenendo soprattutto nella parte di accesso al nodo di Roma e quindi questo sicuramente io penso che in futuro porterà ad ulteriori riduzioni di tempi di percorrenza dall'Abruzzo alla Capitale. Possiamo dire anche che ci sarà l'inversione dell'orario per il Frecciarossa da Pescara a Milano? Ritengo che sia molto più funzionale avere un treno che la mattina va verso nord e rientra la sera piuttosto che il contrario. In un settore prettamente maschile come quello dell'alta ristorazione, la figura di una donna spicca in maniera particolare. Angela Di Crescenzo spiega quali sono i piccoli segreti per essere contemporaneamente una grande professionista e una brava mamma. Io credo che comunque da quel che si dica la cucina è donna, comunque le donne sono quelle che cucinano a casa. Poi è un mondo maschile perché è un mondo dove ci vuole grinta, ci vuole forza, ci vuole perseveranza. Tante volte le donne, ma io credo in tante altre professioni, hanno tendenza a cedere perché o per i figli, per la famiglia. Difficile congiliare le due cose. Io mi sento privilegiata perché sono riuscita a vedere crescere i miei figli, che non è da poco per una donna che lavora e in più a crescere professionalmente.